a allora finito di lavorare doccetta fatta la barba no peccato mente fredda per ragionare e cuore ancora caldo per rivivere le emozioni di ieri partiamo subito andanovic 7 meno fenomenale buono il primo tempo con quella parata sul tiro deviato con il pallone coperto poi da D'Ambrosio per quanto riguarda la parata del secondo tempo su quella rovesciata è stato fenomenale rovesciata fatta se non sbaglio dal figlio illegittimo di Ronaldo Luiz Nazario da Lima molto simile fisicamente diviso e anche bravino a giocare a pallone secondo me ai tempi del PSV aveva già le proprie vittime quindi 7 meno per la cappellata dell'espulsione rischiata perché se l'avesse falciato l'attaccante è lanciato comunque in un'azione estremamente offensiva o a rete anche se era defilato se l'avesse falciato avrei accettato l'ammunizione avrei compreso l'ammunizione ma un portiere che con malizia la para addirittura con la mano è da rosso per me dopo posso sbagliare è da rosso ok? eh no ma c'era l'ultimo uomo che recuperava si c'era l'ultimo uomo che comunque non poteva parare con le mani quindi se avesse sorpassato Andanovic avrebbe trovato una porta senza portiere oltre 7 metri con solo un individuo a coprire la porta quindi era d'espulsione l'unica cappellata al gol solita dinamica dei gol tiro della domenica di quello di otto sotto un tetto del PSV Endove di Steve Arkell e Andanovic nonostante il tiro fosse imparabile ci sta? fermo a guardare come al solito comunque grande Samir parata clamorosa sul secondo tempo emozionantissima sembrava Giulio Cesar in quella parata comunque 7 meno Skriniar Skriniar 7 e mezzo 7 e mezzo difensivamente un gigante per quanto riguarda la fase di sviluppo l'Inter e dopo spiegherò il perché faticava a ripartire faticava ad uscire palla al piede dalla tre quarti difensiva in avanti si vede che si è rotto le scatole di questa situazione e ha fatto più di una sortita offensiva palla al piede partendo dalla difesa faceva ripartire lui l'azione come se fosse un mediano di sviluppo fantastico Milan Skriniar l'unica cosa che deve cambiare il nome di battesimo ragazzi ricordavano le sgroppate palla al piede di Lucio però Lucio erano sgroppate da pazzoide queste qua di Skriniar ragazzi sono da grande campione di giocatore già maturo di un giocatore di livello mondiale neanche più europeo quindi super Milan Skriniar e De Vrij 7 soliti piedi buoni insieme a Skriniar ragazzi si sta iniziando a intravedere una coesione che ci sta bene come termine sono cementificati tra di loro hanno creato il muro così sono un muro e sono felicissimo abbiamo anche un difensore di tutto rispetto come Miranda che fa da riserva quindi sono felicissimo del nostro pacchetto centrale difensivo De Vrij voto 7 ok ieri l'abbiamo vinta in difesa questa partita Danilo D'Ambrosio 6 e mezzo salva il sedere ad Andanovic sulla palla vagante dopo il tiro deviato al fine primo tempo in difesa ripeto l'abbiamo vinta grazie a loro quindi è stato eccezionale in fase propositiva inizia a intravedersi un po' di feeling con Cicciopolitano quindi 6 e mezzo dopo il gol un Danilo rinato quindi buono Danilone sempre aspettando Verri Rissalico o Niccolò Fabi chiamatelo come volete a sinistra Asamo A Asamo quanto lo amo adesso mi vedo tutta la serie di Beverly Scop 2 in onore sua lo amo lo adoro lo adoro a volte alcune lacune in fase offensiva perché non è il classico terzino che va sul fondo a crossare però quando si accentra dimostrato con il tiro poi da cui è scaturito il secondo gol fa male difensivamente ha perso una palla sanguinosa e poi l'ha recuperata con una diagonale su se stesso cioè cose cose ragazzi di assoluta classe pagato 0 pagato 0 quindi pure Asamo A ne ripercaso 7 Brozovic sapete quanto straveda per lui 5 deve dare molto di più il nostro sviluppo di gioco parte solo da lui e abbiamo faticato e ha costretto Screener a prendersi qualche licenza di impostazione che immaginate se avesse perso una palla ci saremmo trovati scoperti in difesa quindi il grande Brozovic a cui voglio bene a cui è stato epicissimo che non ha cagato di striscio Pirlo poi in conferenza in intervista a Sky ha detto si conosci Pirlo Brozovic ti piace Pirlo cosa ti vorresti rubare è un bel bravo non perde mai la testa buona gamba Pirlo buona gamba faceva 10 10 all'ora nella discesa del Montmelò con il vento a favore Pirlo buona gamba si vedeva che non sapeva neanche di chi stesse parlando Brozo è stato epicissimo Pirlo buona gamba ho visto qualche video grande è stata la cosa più bella della serata fatta da Brozovic per il resto serata quasi da dimenticare a parte il risultato quindi Brozo 5 ma ci sta ha fatto ottime prestazioni pure quando molti l'hanno bocciato e l'avevo promosso ieri un po' sottotono De Nutrino lo voglio premiare con un 6 perché il secondo tempo mi è piaciuto un po' di più il primo tempo si è mangiato un gol quasi clamoroso stessa partita di nullità nullità su nullità però il secondo tempo l'ho visto più nel cuore dell'azione l'ho visto un po' più soffrire l'ho visto un po' più entrare nei contrasti quindi lo voglio premiare con un 6 e non ditemi che sono critico al massimo sono molto euforico per la partita quindi esagero un po' di manica larga secondo i miei standard secondo i miei standard Rajan Angola questo lo scrivete sotto nei commenti decidete voi se questo o questo 7 o 8 decidetelo voi ragazzi i top player fanno la differenza inutile a dire voglio andare voglio provare a comprare Gabigol Enrique L'Alvarez e Niki Lauda e non mi interessa ai 30 anni 31 anni neanche perché Mancini si era incafonito con Yaya Toure è inutile è un giocatore è un giocatore è il giocatore deve essere il simbolo della rinascita dell'Inter è inutile a dire non fate di cori come Pecorario o Leleola la Rajan Angolan perché adesso la politica è sostenere la squadra ok però deve essere un nostro simbolo ok va bene idolatrarlo va benissimo idolatrarlo quindi decidete voi se 7 o 8 a Angolan e lo faccio scegliere a voi lo scrivete sotto nei commenti fondamentale sta iniziando a trovare la gamba è del derby voglio un altro gol ci ha tolto le castanee dal fuoco già ce l'aveva provato palla leggermente fuori tirò un po' leggermente chiuso poi bella sbombazzata su un'azione comunque dove Icardi è stato super caparbio ma dopo parleremo di lui quindi in Angolan fondamentale speriamo che non gli venga neanche un raffreddore e speriamo di comprare un altro centrocampista a gennaio che potrebbe fare il mediano al posto di De Nutrino e quando dobbiamo fare un po' di turnover andare un po' più avanti al posto di Nangolan poi Cicciopolitano 6 e mezzo una spina nel fianco degli olandesi ubriaconi e cannaioni mi sta iniziando a piacere inizia ad attaccare più la porta inizia ad attaccare più l'area finalmente perché realmente politano e in quel limbo potrebbe giocare stile Luis Figo ma quando gioca e comunque non crea nulla gioca la Nagatomo ok? speriamo che tenda a diventare leggermente più versione Luis Figo e non aiuto Nagatomo ok? impegno simpatia l'axi lotta corre fa dis fa fa dis fa non mi interessa politano lo voglio come ieri sera una spina nel fianco voto 6 e mezzo merdi sic 4 anzi dicete voi se 4 o 0 4 o 0 4 o 0 purtroppo non lo leva non lo leva si è fatto ma ragazzi quando aveva fatto quello scontro in aria pensavo facesse la fine ho sperato facesse la fine dell'attore del vecchio il primo superman il film che cadde da cavallo gli over 30 capiranno chi adesso mi sfugge il nome se ve lo ricordate scrivete sotto gli ho augurato quella fine però purtroppo ce l'ha fatta non è stato niente di grave non è uscito non l'ha sostituito e 4 ragazzi non azzecca una non ci metto un po' di grinte in anticipo in velocità davanti all'avversario si fa sempre rimontare un cross decente niente poi l'anno scorso si intendeva sempre con i cardi quest'anno niente dove metteva la palla e imbeccava i cardi adesso niente penoso penoso e infatti ho pregato tutta la partita che mettesse il nero con gli occhi da cinese che tabalde purtroppo Spalletti si sta fissando con perdi vediamo se mi fa cambiare idea attacco Maurito Cardi la prestazione ragazzi è stata da 6 e mezzo a prescindere dal gol perché un attaccante che crea tanti tanti tantissime palle gol merita la sufficienza a meno che non le sbaglia da un metro dalla porta ma lui le ha create dal centro dell'aria in contrasto aereo con gli avversari quindi mi è piaciuto il gol l'ha propizzato lui l'1 a 1 per caparbietà e poi ha fatto il gol il gol della vittoria che l'ho detto ieri ricordava il gol di Bobo infame di Bobo che comunque abbiamo nel cuore contro il Verona al debutto il gol del 3 a 0 e e anche il centesimo gol contro il Lecce quindi Icardi per il gol 7 in Paggello non li voleva nessuno deve io dire sempre alla nausa mi sta piacendo però deve migliorare i fondamentali però ieri ha giocato meglio soprattutto rispetto alla partita col Tottenham chi è entrato Borca gli diamo un 6 politico a tutti perché abbiamo vinto adesso vai Giubileo sono buono con tutti tutti bravissimi fortissimi biondi e con gli occhi azzurri Spalletti 6 e mezzo abbiamo vinto quindi una partita di Champions una partita in trasferta quindi non bisogna andare a giudicare il fatto che non abbia tolto Perich anche se lo detesto non abbia messo Tizzo piuttosto che Caio i giocatori sono questi abbiamo come Cambi a centrocampo Borca Valero ha messo Candreva al novantesimo dopo la torre al novantunesimo però Candreva ha avuto quella grinta che ci ha fatto perdere un po' di tempo ha fatto un'azione da gol un tiro calcio d'angolo guadagnato perde di tempo quindi bravissimi tutti i 6 a che subentrato e niente ragazzi queste sono le pagelle iscrivetevi attivate la campanella mancano 70 per arrivare a 1000 ci sarà una bella sorpresa un bel videotifo ok dannata fatto da me quindi iscrivetevi e fate iscrivere i vostri amici avanti Inter avanti Curva Nord mi raccomando testa la spalla e poi asfaltiamo il Milan ciao 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 ciao